Salve a tutti, e benvenuti sul canale Whispers of Wisdom. Se siete qui oggi, è perché cercate un po' di saggezza e ispirazione per arricchire le vostre vite. Vi chiedo gentilmente di supportare il nostro canale iscrivendovi e lasciando un like a questo video. Il vostro sostegno ci aiuta a continuare a condividere preziose lezioni di vita e riflessioni profonde. Quindi, non esitate, iscrivetevi e lasciate un like ora per dare una spinta al nostro cammino insieme. Grazie di cuore. Nel turbine incessante della vita quotidiana, ci troviamo inevitabilmente di fronte a individui che rappresentano un ostacolo alla nostra pace interiore. Essi possono essere come sassi lanciati nella quiete di uno stagno, disturbando la serenità che tanto desideriamo. Colleghi ostili, parenti invadenti o conoscenti intrattabili, ognuno di loro incide il nostro equilibrio interiore con la loro presenza, suscitando sentimenti di frustrazione, reso, rabbia e risentimento. Tuttavia, nell'oscurità di questa situazione, la luce del pensiero zen illumina la via. Essa ci insegna che la vera via per gestire queste persone difficili non consiste né nell'evitarle, né nel tentare di mutarle, ma nell'effettuare una trasformazione profonda all'interno di noi stessi. La saggezza zen ci sussurra che il segreto risiede nella comprensione profonda della natura umana e nell'arte della consapevolezza. È un invito a guardare oltre le apparenze esterne e a penetrare nel nucleo più intimo di ogni individuo, dove risiedono le cause profonde del loro comportamento. Quando adottiamo questa prospettiva, riusciamo a districare i fili dell'ego e dell'illusione che ci legano a questi individui, e scopriamo la libertà interiore che deriva dall'accettazione incondizionata di ciò che è. In tal modo, trasformiamo il nostro atteggiamento verso di loro, non più vittime delle loro azioni, ma guardiani della nostra pace interiore. Nel cuore di questa trasformazione risiede la pratica del perdono e della compassione. Non si tratta di giustificare il comportamento altrui, bensì di liberare noi stessi dalla prigione dei nostri rancori. È un atto di autenticità e nobiltà d'animo che ci porta a comprendere che, in fondo, siamo tutti viaggiatori nella stessa ricerca di pace e felicità. Così, mentre danziamo sul sentiero della vita, incontriamo coloro che inciampano nei nostri passi. Invece di respingerli o condannarli, possiamo abbracciarli con la consapevolezza che essi sono ma riflessi del nostro stesso viaggio. In questo abbraccio, scopriamo il potere trasformativo della gentilezza e della compassione, che illumina il nostro cammino e porta armonia nel caos della vita quotidiana. Ecco come gestire le persone difficili, sette consigli pratici dalla filosofia Zen. 1. Affronta la tempesta con calma interiore. Nell'oscurità tumultuosa della tempesta, il cuore del saggio rimane calmo e saldo come la roccia in mezzo al mare agitato. Immagina di navigare su una barca, circondato dalle folate impetuose del vento e dalle onde che si infrangono con furia. In quel frangente, l'istinto umano potrebbe spingere verso l'agitazione, l'urlo, la lotta contro le forze inarrestabili della natura. Ma il vero saggio, il vero praticante dello Zen, sa che questo non è il sentiero da seguire. Così come nelle acque agitate, così anche nelle interazioni con individui difficili, la calma interiore è la nostra salvezza. L'ira, il risentimento, la frustrazione, queste sono le tempeste che si insinuano nel nostro essere quando ci troviamo di fronte a persone che sembrano essere come onde impetuose pronte a schiantarsi contro la nostra pace interiore. Ma lascia che ti sveli un segreto, la vera forza risiede nella quiete del tuo spirito. Quando incontri l'ostacolo umano, anziché reagire con sdegno o animosità, siediti nel silenzio del tuo essere. Osserva le onde della sua difficoltà infrangersi contro la tua tranquillità interiore. Respira profondamente e lascia che la tua calma abbracci il caos circostante. In questo gesto, troverai una forza nascosta, una potenza interiore che sorprende anche te stesso. Ricorda, la tua pace interiore è il tuo più grande tesoro. Non lasciare che nessuna tempesta umana te la rubi. Affronta la sfida con la calma del maestro Zen, e vedrai che, alla fine, anche le onde più alte si acquietano di fronte alla tua serenità. 2. Ascolta con compassione. Nel vasto teatro della vita, le persone difficili rappresentano spesso solo personaggi malconci, feriti dalle avversità del loro viaggio. Di fronte a loro, la nostra missione non è quella di condannare o respingere, bensì di offrire un ascolto compassionevole, capace di risvegliare le profondità nascoste del loro essere. Il maestro Dojen Zenji ci insegna che l'arte dell'ascolto va oltre la mera percezione uditiva. Non si tratta solo di captare le parole pronunciate, ma di immergersi nell'essenza della comunicazione, di percepire le vibrazioni dell'anima che si esprimono attraverso di esse. L'ascolto con l'orecchio del cuore è un'abilità rara, che richiede pazienza, umiltà e un profondo senso di connessione con l'altro. È il lasciare che le parole dell'altro penetrino nel nostro essere più profondo, senza barriere o difese, come foglie che danzano nel vento. Quando pratichiamo questo tipo di ascolto, ci immergiamo nelle acque oscure della comprensione umana. Scopriamo che dietro le maschere dell'ostilità e della difficoltà si nasconde spesso una fragilità struggente, una ferita che urla silenziosa nell'oscurità. E così, mentre ci sediamo al tavolo della compassione, accogliamo le parole dell'altro con gentilezza e senza giudizio. Offriamo loro uno spazio sicuro dove possano deporre il peso delle loro preoccupazioni e condividere la loro umanità con il cuore aperto. In questo atto di ascolto, non solo doniamo conforto agli altri, ma scopriamo anche una profonda verità, che nel cuore di ogni persona, anche nella più difficile, risplende una scintilla di luce divina, pronta a illuminare il cammino verso la guarigione e la trasformazione. 3. Abbandona il bisogno di avere ragione. Nel labirinto intricato delle interazioni umane, il desiderio di avere ragione è come una spada affilata che taglia il legame dell'armonia. Spesso ci troviamo intrappolati in un duello verbale, una battaglia di ego che non porta altro che discordia e tensione. Il maestro Zen ci invita a disfarsi del peso dell'ego e del desiderio di prevalere. Liberati dalle catene della necessità di dimostrare la tua superiorità, e abbraccia invece la bellezza della pace interiore. Il vero guerriero Zen non combatte per la vittoria esteriore, ma per la vittoria dentro di sé. È colui che, di fronte alla tempesta delle opinioni contrastanti, si piega come un albero flessibile, senza spezzarsi, mantenendo salda la sua radice nella terra della saggezza interiore. Quando abbandoniamo il bisogno di avere ragione, apriamo le porte alla comprensione e alla collaborazione. Non si tratta di piegarsi alla volontà altrui, ma di riconoscere che la vera forza risiede nella flessibilità e nella capacità di vedere al di là delle nostre convinzioni. Così, mentre danziamo il tango delle relazioni umane, lasciamo che il nostro cuore guidi i nostri passi. Non c'è bisogno di dimostrare la nostra superiorità o di combattere per ottenere l'approvazione degli altri. Siamo già completi, già interi, nella nostra essenza più profonda. Nel silenzio della mente, nell'assenza dell'ego, troviamo la chiave per la vera pace interiore. E in questo spazio di pace, scopriamo che non c'è bisogno di avere ragione, perché la verità risplende già nel cuore di ogni essere vivente. 4. Rispondi con gentilezza e fermezza. Nell'arena delle interazioni umane, la gentilezza e la fermezza si ergono come pilastri solidi sulla via del guerriero Zen. Di fronte alle tempeste di provocazioni e agli assalti degli insulti, non è la spada dell'ira che dobbiamo brandire, bensì il bastone della gentilezza e della fermezza combinati in un unico movimento armonioso. Il maestro Sunryu Suzuki ci rivela la verità nascosta dietro la maschera della forza, essa non dimora nella violenza, ma nella gentilezza. È la capacità di rispondere con parole pacate, ma cariche di determinazione, che distingue il vero guerriero Zen. Nel cuore di questa pratica risiede la consapevolezza che ogni parola pronunciata, anche la più lieve brezza, porta con sé il potenziale per scatenare una tempesta. Perciò, rispondiamo agli attacchi con una gentilezza che rispecchia la tranquillità di un lago al tramonto, ma anche con una fermezza che riflette la solidità di una montagna. Questa non è debolezza mascherata da gentilezza, bensì una manifestazione di forza interiore. È la capacità di mantenere la calma in mezzo alla tempesta, di mantenere il proprio centro mentre tutto intorno sembra crollare. Nel danzare tra le lame affilate delle parole, ricorda che la vera vittoria non risiede nel piegare gli altri alla tua volontà, ma nel mantenere la tua dignità e integrità. Rispondi con gentilezza, ma non permettere che la tua fermezza vacilli. In questo equilibrio sottile, troverai la via del guerriero zen, che conduce alla pace interiore e alla vera armonia con il mondo. 5. Usa l'umiltà come scudo Nel vasto panorama dell'esistenza, l'umiltà si erge come una torre inespugnabile, protettiva e luminosa. Non è una debolezza da nascondere, bensì una forza interiore che trasforma i conflitti in opportunità di crescita e di connessione profonda con l'altro. Il maestro Confucio ci insegna che l'umiltà è il fondamento su cui si ergono tutte le virtù. È come il suolo fertile che accoglie i semi dell'armonia e della comprensione, facendoli germogliare in splendide manifestazioni di saggezza e compassione. Quando ci piediamo con gentilezza di fronte agli altri, non cediamo alla debolezza, ma manifestiamo la nostra grandezza interiore. Riconosciamo i nostri limiti e ammettiamo le nostre eventuali colpe, non come segni di sconfitta, ma come tappe fondamentali del nostro percorso evolutivo. L'umiltà è il tessuto che avvolge il dialogo costruttivo, creando uno spazio sicuro in cui le divergenze si trasformano in punti verso la comprensione reciproca. È la capacità di ascoltare senza pregiudizi, di apprendere dagli altri con umiltà e gratitudine, consapevoli che ogni incontro è un'opportunità di crescita e di arricchimento reciproco. Nella danza della vita, sappiamo che ogni movimento è importante. Sia che ci abbassiamo con umiltà di fronte agli altri, sia che ci eleviamo con dignità verso le stelle, ogni passo è una dimostrazione della nostra autenticità e del nostro impegno verso una vita vissuta con integrità e compassione. Così, mentre camminiamo lungo il sentiero dell'umiltà, scopriamo che non siamo soli. Siamo circondati dalla luce delle anime che ci sostengono e ci incoraggiano lungo il nostro viaggio. E in questa consapevolezza, troviamo la forza e la pace che risiedono nel cuore di ogni essere umano. 6. Non cercare di cambiare l'altro. Nel profondo silenzio della consapevolezza, scopriamo la verità nascosta dietro il velo dell'illusione, che la nostra unica responsabilità è trasformare noi stessi, non gli altri. È come scrutare il riflesso dell'alba sullo specchio di uno stagno tranquillo e comprendere che ogni onda riflette la propria perfezione, esattamente come è. Il maestro Alan Watts ci guida lungo questo sentiero di comprensione, rivelando che ognuno di noi è un essere perfetto, proprio così com'è. Non c'è bisogno di modificare la melodia di un uccello che canta all'alba, né di plasmare il corso del fiume che scorre maestoso nella valle. Allo stesso modo, non abbiamo il potere di forzare gli altri a cambiare secondo i nostri desideri. Nell'abbracciare la diversità, ci immergiamo nell'oceano della comprensione e dell'accettazione. Lasciamo cadere il peso del giudizio e ci avventuriamo nel regno della libertà, dove ogni individuo è libero di essere se stesso, senza il peso delle aspettative altrui. Quando accettiamo gli altri per quello che sono, senza tentare di plasmarli secondo i nostri desideri, ci libriamo dalle catene della delusione e della frustrazione. In questa danza dell'accettazione, scopriamo la bellezza nascosta di ogni essere umano, riflettendo la luce della loro unicità e della loro autenticità. Così, nel cuore della notte oscura dell'anima, troviamo la chiave per la pace interiore, abbandonare il desiderio di cambiare gli altri e concentrarci invece sul nostro viaggio di trasformazione personale. In questo atto di profonda umiltà e consapevolezza, scopriamo la vera essenza della libertà e della serenità, che risplende come una stella solitaria nel vasto firmamento dell'esistenza. 7. Stabilisci dei limiti chiari. Nella danza sottile delle interazioni umane, è essenziale tracciare confini chiari come le linee tracciate sulla sabbia dall'incessante flusso delle onde. Quando una persona difficile oltrepassa i nostri confini o invade il nostro spazio personale, dobbiamo armare la nostra mente e il nostro cuore di fermezza e chiarezza. Il consiglio Zen ci sussurra di apprendere l'arte del no, con gentilezza ma fermezza. Non è un gesto di ostilità, ma piuttosto un atto di autodifesa, un'azione necessaria per proteggere il nostro benessere mentale e fisico senza timore di arrecare offesa. Quando diciamo no, con gentilezza, stiamo in realtà dicendo sì a noi stessi e alla nostra autenticità. È un atto di rispetto verso il nostro essere interiore, un riconoscimento del nostro valore e della nostra dignità. Proteggere i nostri confini non è un atto di egoismo, ma di amore verso noi stessi. È come coltivare un giardino interiore, dove solo ciò che è benefico e armonioso può fiorire, mentre le erbacce dell'oppressione e della negatività vengono diligentemente estirpate. Nel tracciare questi confini, non siamo solo custodi del nostro benessere, ma anche custodi della nostra pace interiore. È un atto di autenticità e di saggezza, un'espressione della nostra forza interiore che risplende come una luce nell'oscurità. Così, mentre danziamo sul filo sottile della vita, impariamo a tracciare confini chiari e fermi, senza timore né esitazione. Perché solo quando proteggiamo il nostro spazio sacro possiamo davvero fiorire e irradiare la nostra luce nel mondo. Quando riflettiamo sui consigli intrisi di saggezza Zen che abbiamo appena esaminato, possiamo cogliere le gemme di verità che possono illuminare il nostro cammino quotidiano. Ecco alcune riflessioni e consigli pratici che possiamo applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Accogliere l'altro con compassione. Ogni persona che incontriamo è un universo in sé, con le proprie gioie e dolori. Accogliamoli con compassione e gentilezza, senza giudizio o pregiudizio. Questo ci aiuta a coltivare relazioni più profonde e significative. Ascoltare con cuore aperto. L'arte dell'ascolto autentico ci consente di comprendere veramente gli altri e di costruire ponti di comprensione reciproca. Mettiamo da parte le nostre preoccupazioni e ascoltiamo con il cuore aperto, imparando così molto di più dai nostri incontri. Abbandonare il bisogno di avere ragione. Il desiderio di prevalere in una discussione può portare solo a conflitti e risentimenti. Lasciamo andare il bisogno di avere sempre ragione e impariamo a valorizzare la pace interiore sopra ogni altra cosa. Rispondere con gentilezza e fermezza. Anche di fronte a situazioni difficili, possiamo rispondere con parole pacate ma decise. Questo ci consente di esprimere chiaramente i nostri confini senza alimentare ulteriori conflitti. Usare l'umiltà come scudo. L'umiltà ci protegge dalla presunzione e ci permette di accettare i nostri limiti. Impariamo a riconoscere quando abbiamo bisogno di chiedere aiuto e a trattare gli altri con rispetto e dignità. Non cercare di cambiare l'altro, accettiamo gli altri per quello che sono, senza tentare di modificarli secondo i nostri desideri. Questo ci aiuta a coltivare relazioni autentiche e apprezzare la diversità che arricchisce il nostro mondo. Stabilire dei limiti chiari, è importante essere chiari riguardo ai nostri confini personali e difenderli con gentilezza ma fermezza. Questo ci permette di proteggere il nostro benessere mentale e fisico, mantenendo al contempo relazioni sane e rispettose. Seguendo questi consigli e riflessioni, possiamo trasformare la nostra vita quotidiana in un viaggio di crescita personale e di connessione autentica con gli altri. Che ogni passo che facciamo sulla via Zen sia un passo verso una maggiore pace, saggezza e felicità. Grazie mille per averci accompagnato in questo viaggio di scoperta e crescita. Vi chiedo gentilmente di supportare il nostro canale, Whispers of Wisdom, iscrivendovi se non lo avete ancora fatto, lasciando un like a questo video, condividendolo con chi potrebbe trarne beneficio e lasciando un commento con le vostre riflessioni. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare a diffondere saggezza e ispirazione. Insieme, possiamo creare una comunità che si nutre di saggezza e condivisione. Grazie di cuore per il vostro supporto e vi aspettiamo presto per nuove avventure di conoscenza e crescita. A presto! Grazie a tutti!